Ragazzi, con uno Spider-Man sofferente, sentite, riuscite a sentire il suo fiatone incredibile, è stata una lotta nell'ultimo episodio molto molto importante, benvenuti qui su Spider-Man Miles Morales, oggi è lo Spider-Man Day, oggi è lo Spider-Man Day, arrivano tutti episodi oggi di Spider-Man finché non arriviamo al finale, e poi da mezzanotte io giocherò Spider-Man 2 e il primo episodio della serie, appunto proprio su Marvel Spider-Man 2, arriverà in nottata, quindi per i più nottamboli di voi si troveranno, cioè vi ritroverete insomma per chi fa fatica a dormire e ad orari decenti, il primo episodio della serie, io presumo verso l'una, ok? L'una del mattino, quindi ci sentiremo spesso in questa giornata e adesso concentriamoci sulla missione del giorno, andiamo a vedere, potrebbe essere che in alcuni episodi che faremo tra poco, insomma durante la giornata farò più missioni, quindi mi raccomando, Allora, adesso non ci dà nessuna missione principale, semplicemente perché dobbiamo aspettare una chiamata, dallo zio Aaron, ok? Ok, finalmente Non so cosa fare con Finn, dovrei parlare con lei, o magari incontrarla di persona, al museo dell'assenza o alla Trinity Church, no, sa che le ho mentito, non accetterà mai di vedermi Ok, finalmente è arrivata la chiamata Vogliamo leggere la missione? Ma sì, leggiamola ragazzi, dai Lo volevamo fare prima e lo facciamo anche adesso Rumore di fondo, non so come fare con Finn, forse zio Aaron può darmi un consiglio Esattamente, noi ci stiamo vedendo appunto con lo zio di Miles perché Scusate, era arrivato il corriere, quindi ho fatto un piccolo taglio Ci dobbiamo incontrare con lo zio di Miles proprio perché abbiamo bisogno di un consiglio sul da farsi con Finn La situazione non è delle migliori, non è delle migliori Brutta storia Ti richiamo dopo Ok Miles, dimmi, com'è la situazione? Finn, la Roxson, l'Underground È un po' complicato Sei giovane Stressato E sei anche un supereroe Ogni tanto devi staccare Fai ancora musica? Non molto, da quando sono... questo Devi prenderti i tuoi spazi È fondamentale Tieni Un piccolo progetto che iniziai con tuo padre Un mixtape Avevamo anche scritto i testi Perché non ne sapevo niente? Perché non è finito? Avevamo campionato i suoni delle strade Per riprodurre il ritmo della città Ma teneva tutto tuo padre E quando alla fine litigammo... Ma lo puoi finire tu E ti aiuterà a distrarti Già Sì Ok Che faccio? Caricala Ti faccio vedere Ho impostato degli ologrammi Scansiona la fonte Ologrammi eh? Mi rubi le idee? Conoscevo questi trucchetti prima ancora che tu nascessi, vivello Ok ragazzi Ok ragazzi è ovvio che questo ci dà qualche spunto per parlare un po' di quella che dovrebbe essere E forse qualcuno di voi l'ha capito Una... Un'attività secondaria, ok? Adesso vedremo come funziona E' bello diciamo l'incipit che ci danno, l'input narrativo che ci danno su questa robetta qui del mixtape che stavano componendo sia il papà di Miles che il fratello appunto del papà E' una cosa bella perchè comunque gli lascia un... gli dona un lascito del padre che purtroppo non è completo ecco E comunque se lo passano no? Dal padre adesso è finito nelle mani del figlio grazie comunque allo zio E' una cosa che comunque gli permette di essere un minimo... non lo so, di pensare ad altro Ok, non pensare a finna Libera la mente e concentrati sui suoni Scansiona gli ologrammi per sbloccare i file sulla chiavetta che ti ho dato Ti aiuteranno a localizzare gli audio Vedete? E poi ci sta una vera e propria attività secondaria anche abbastanza lunga In cui ti permette veramente di campionare dei suoni e di fare una canzone ragazzi Un beat Succede veramente e poi c'è anche un premio alla fine di tutto questo Ora io non ricordo mai Campionare Campionare originale da dove veniva Perfetto Quella è la distanza giusta Ma non è lui Continua a cercare Vediamo Controstruita E qui ce l'abbiamo Grandissimo Sì È perfetto Totale Non ora Ehi Che te ne pare? Eh sì Ha un suono particolare Questo? Te l'ho detto che avevamo del talento E avevi ragione sul distrarre la mente Ora so cosa fare con Finn Devo incontrarla E farle abbandonare i suoi piani Di persona? Dove? Trinity Church Domani sera Perché ti interessa? Perché hai mezza città che ti sta dando la caccia Non devi proteggermi E invece sì Sai Hai detto di non aver completato questa traccia Perché tu e papà avevate tagliato i ponti Ma che cosa è successo tra di voi? Beh È complicato Eravamo troppo simili Ma diversi Ah Senti tu Registra i campioni E io ti racconterò tutto Promesso Ok Grazie zio Trinity Church Ricorda In career è tua Ma lascia stare il ragazzo Qualcuno sta facendo il doppio gioco Eh Sarà una brutta Sarà una brutta botta per Miles Ok Io non ricordo se si poteva fare un giro Oh sì sì Bene A chi piacciono gli ommetri? A tutti Ovvio Mamma Pienchi C'è nessuno? Non ricordo di aver fatto un giro nella mia prima run Comincia a sembrare la stanza di mamma Ok Sì ho voglia di musica No direi che non l'ho proprio fatto Classico intramontabile Lo ripongo perché non vorrei Ah no Vabbè mettiamolo dai mettiamolo Basta che non mi steccate il video con il copyright eh Eh Non fate i furbi Mi fa strano pensare a mamma da bambina Ma è vero c'è l'altezza che cosa cucciola Un messaggio L'attacco al punto e non ha fermato mamma Leggiamolo va Se non sto attento Genki diventerà la spalla di mamma Miles non volevo svegliarti Sono alla sede del comitato elettorale Scrivimi se hai bisogno Mamma Poi Ehi Do una mano a tua mamma con i social Faremo Disegno fuoco e fiato Mi piace avere la casa tutta per me Ok Peccato che adesso dobbiamo subito uscire Miles Andiamo Oh qua c'è qualcosa Mamma è lanciatissima Non può perdere E andiamo Pronti Ok Abbiamo completato rumore di fondo E quindi abbiamo sbloccato tutte queste attività secondarie in cui bisogna campionare Gli audio Audio differenti insomma della città di New York Ok E' ora di chiamare Finn Spero risponda Ciao Spider-Man Ciao Finn Senti Devo parlarti Tu Di persona Perché? Vuoi mentirmi ancora? Perché è la cosa giusta Ti prego Ci vediamo alla Trinity Church Niente bugie Promesso Se provi a pregarmi io lo vedo Ok Ci vediamo lì Beh se non altro ha accettato di vedermi Ok Trinity Church Andiamo Poi Come se Lei Non gli avesse mentito a Miles Cioè Era Tinkerer Eh Lui non gli ha detto di essere Spider-Man Non ho capito Come funziona qua Veramente Allora Tre chilometri 3D Church Arriviamo 3D Church Arriviamo Hai scelto un bel modo per dirmi che sei Spider-Man E se ti avessi ucciso? Vuoi farmi sentire in colpa perché tu volevi uccidermi? Io voglio che la smetti di mentirmi Ti ho preso nell'underground perché pensavo mi capissi E ti capisco Ciò che è successo a Rick Krieger la pagherà Ma non così Questo è l'unico modo che ho per sconfiggerlo Per una volta non intervenire Ti prego Non posso L'ho promesso Anche io Perché è proprio qui Ci portò papà Al concerto Sette cori di sette paesi Ricordi? A me piaceva il Ghana Il Ghana non c'era Ti confondi con la Guinea No, no, sono certo fosse il Ghana Guinea, Belize, Polonia, Cuba Corea del Sud, Thailandia, Venezuela Hai ragione Come sempre Come sempre Quasi sempre Cosa? Ora Cosa? 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 Devo dire che sono un po' deluso. Krieger, sei... La signorina Mason. Sapevo che sarebbe stata un problema. Ma tu... Speravo che saremmo andati d'accordo. Dove siamo? Sei dietro le quinte. Questa è la nostra struttura più sicura. Qui si è compiuto il miracolo. Sei proprio un bastardo, lo sai? Vedi, quando io e Rick progettavamo il Nuforma... Hai solo messo il tuo nome sul brevetto. Lui diceva sempre che il tuo unico talento è quello di vendere le idee degli altri. Beh, io almeno respiro ancora, tesoro! Ma non divaghiamo, ok? Per cominciare... Vediamo. Wow! È assurdo. È una difesa involontaria? Accidenti, che bomba! Senti... Io ti toglierò quella maschera. Devo scoprire qual è il tuo segreto. Perché questa... A me... Sembra ingegneria biologica di alto livello e sai cosa significa, ragazzo? Significa soldi. Ok, vado in palestra. Oggi tocca alle gambe. Scoprite dove è nascosto il Nuforma, ok? Senza non posso aprire il blaster. Oh, e usate lui. Abbiamo un conto in sospeso dal ponte. Non c'è niente telecamere. Ti sta carigando tantissimo. Tutto bene? Potevano ucciderti. Accidenti. Sono un osso duro. Dobbiamo uscire da qui. La Roxson non ha mai consegnato Rhino alla polizia. Pazzesco! Ormai... Esatto. Non mi stupisce niente della Roxson. Stai bene? Sì, voglio solo uscire di qui. Eh, lo devo ripetere. Che belli gli interni. E che bello il ray tracing. Ok. Quindi, Rhino e la Roxson. Non si sono praticamente mai divisi da quando si sono incontrati. Da quando è iniziato questo gioco, ovviamente. Mai divisi. Lo sono tenuto. E lo hanno addirittura potenziato. Non so che rapporto abbia la Roxson con la polizia. Magari la Roxson ha promesso alla polizia di tenere Rhino a bata in delle celle fatte apposta, fatte ad hoc per lui. Ma a quanto pare no. La sua armatura, l'armatura impenetrabile di Rhino è stata addirittura potenziata. Trovato niente? L'uscita è qui, in questo ufficio. Ma dobbiamo riattivare i sistemi della base e dalla sala di controllo. Prima dobbiamo scappare dall'ala di sicurezza. Trova a scendere e vediamo cosa ci aspetta. Porta chiusa. E noi andremo sopra. Il Venom ha funzionato nella cella. Dovrebbe aprire anche la porta. Sempre se scop... Ciao. È aperta. Comincia a scendere. Sopra di te. La porta di sicurezza è l'unica uscita, ma devo disattivare l'allarme attraverso il sistema. Ok, io penso alle guardie. Ah, che bello essere qua sopra, ragazzi. E volendo, possiamo metterci così? Ok. Lui. Buono per noi. Questa... Dobbiamo farla stelta. Perlomeno... Provarci. Ci sì. Non riesco... Ora sì. Ottimo. Gitto, 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 gitto. Non me fa... Non me fa scoprire. Questi sono un po' tanti. Però da qui... In realtà... Devo far bella roba. Questo ad esempio... Te lo togliamo. Ascolta, far saltare il plaza non è una buona idea. Neanche avvelenare la città con una fonte di energia instabile. Ok, ma ci sarà un altro modo per liberarci dalla Roxxon. Le strategie richiedono compromessi. Come mentire agli amici. Ora pensiamo solo a uscire da qui. Va bene. Ma ne riparleremo. Che poi tra l'altro, infatti, loro due ancora non hanno raggiunto un accordo, eh. Sono ancora parecchio lontani. Ok, si sono allertati. Lui ha attivato la torcia. Ma a noi non interessa. Guardate ovunque! Questi qua invece facciamo un po' più fatica a prenderli. Però possiamo... Se avvistate il bersaglio eliminatelo! ...buttarci su di loro in realtà. Ah! Ho rischiato... Ho rischiato da morire. Da morire. Ecco. Vedete, questa cosa fa abbastanza ridere che non mi vedano, eh. Però... Questo fa a raccolta, regà. Guardate, guardate quanti sono. I polli. Tutti in aria. Ok. Chi ci manca? Chi ci manca? Pogliamolo di mezzo, forza! Dai su, venite qua a voi, su. Un momento, c'era qualcosa. Dai, dai. Ragnatele! Occhi aperti! Ops! Ok. Finito. Allerta per tra gli ostile! Occhio ai ragni, mico mio. Ok. Mando in corto i blocchi. Ma devi attivare la modalità manuale da lì. Ci sono! Perfetto. Qui che c'è, eh? Sembra una nota vocale di Krieger. Mi piaceva Rick Mason, sul serio, ma... Se hai il cuore tenero, questo posto non fa per te. Forse dovremo apporre una targa alla sua memoria. O meglio ancora, dare il suo nome a una panchina. Eh, sì, gli sarebbe piaciuto. Simon Krieger. L'uomo dal cuore d'oro. Mazza che stronzo. Allora. Che che abbiamo? Ehi. La Roxson ha rubato la tua roba. Ma quanto ne so, anche tu. A proposito, grazie mille. Raino, attenzione. Raino giura di volersi liberare di quell'armatura, ma diciamoci la verità. Quella è l'unica cosa che lo rende speciale. Potenziamola. Se lo aiutiamo a schiacciare il ragnetto, magari la smetterà di chiedere di uscirne. Non fa altro che manipolare gli altri. Ci sono delle note sui collaboratori esterni. Ci serve un agente indipendente per sorvegliare Tinkerer e Spider-Man. Tombstone è fuori gioco. Black Hat è tornata più o meno sulla retta via. E quel tizio è in viola? Come si chiamava? Ecco, sì, sì. Lui sarebbe perfetto. Il tizio è in viola? No, non può essere. Capite? Pure abbastanza... Chiaro. Fatto, sono dentro. C'è una nota audio. Signore, la polizia chiede di Raino. Cosa dobbiamo dire? Il nostro uomo al raft sta mettendo in piedi un programma di semi-libertà. Dietegli che Raino farà un lavoro socialmente utile. E l'hanno fatta franca, ma dai! La porta è sbloccata, ma devi forzarla. Contaci. Ok, abbiamo scoperto anche quello di cui stavamo parlando prima di iniziare questa fase di gameplay. Non li libererò finché non avrò il mio uniforme. Lui non dovrebbe essere qui. I tuoi uomini dovevano prendere solo lei. No! Se non ti piace, questo l'ho capito. Ma Spider-Man mi permette di ricattare la signorina Mason. Del resto, li hai presi tu. Cioè voi. Mi spiego, tu li hai catturati, ma questo grazie alla tua soffiata. Quindi c'è chiaramente qualcosa che non torna. Hai accettato di lasciar stare il ragazzo? Zio Aaron, il ragazzo. Scusa, ma mi piace come lo dici. È così paterno. Libera Spider-Man e ti darò il uniforme. Informazioni sull'Underground, quello che vuoi. Visto? Ricatto. Funziona sempre. Ma... Spider-Man! Ti piacciono i ricatti? So parecchie cose. Quanto è nocivo il uniforme. Ciò che hai fatto a Rick Mason. Se ti denuncio. Sì, ma non lo farai. Senti qua. Tu sei un ricercato. Con i crimini commessi assieme, finiresti nella cella a fianco alla mia. E sappiamo entrambi che tieni troppo a te stesso per farlo. E quindi ora faremo visita alla signorina Mason e a Spider-Man. Ma è un tipo di festa a cui si partecipa solo su invito. Già. Addio. Zio Aron. No. Aspetta. Non c'è quel tipo? È colpa sua se ci hanno catturati? No, io... Sapevo che lavorava con la Roxo, ma non credevo che... mi avrebbe tradito. Non ci credo. Mi hai attirato in una trappola. Perché continuo ad ascoltarti? No, Finn. Deve esserci una spiegazione. Non credevo sarebbe andata così. Lasciate. Non possiamo fermarci. Stanno isolando le uscite. L'unica speranza è la sala di controllo. Dobbiamo passare le porte blindate. Qui c'è un pannello di controllo, ma serve energia. Vedo cosa riesco a fare. Ok. Diamo energia. Fatto! Ecco la corrente. Accedo. Le saracinesche sono fuori portata, ma posso muovere macchinari, come quella Gru. Potrebbe essere utile. Do un'occhiata. Ok. Altro rumpicapo. Allora, noi dobbiamo andare dall'altra parte, in teoria. Ok. Ora la gru è sopra al motore. Il motore. Ok, ho un'idea. Puoi riportarla sulla linea di montaggio? Sì, forse ho capito cos'è in mente. Ok. Ok. Ok, questo laser dovrebbe attivare il motore. Ecco, il laser è in corto. Posso deviare la corrente. Ok. Fatemi ricordare come posso deviarla. perché qui abbiamo questo. E in realtà dove lo possiamo? Hmm. Non ricordo qua, eh. Questo non si sposta. Come faccio a farcelo arrivare lì? Un po'. Quei nodi possono andare se trovo energia. Ah, eccolo lì. È vero. Beh, così dovrebbe essere giusto. Non l'avevo visto là sopra, ragazzi. Bene. La ragnatela fa da conduttore. E ora dovrebbe essere libero qui, vero? Esatto. È tutto pronto. Usa il laser. Laser in arrivo. Perfetto. Se sovraccarico il motore diventerà esplosivo. È un'esplosione quel che ci serve per distruggere le porte. È ora di renderlo esplosivo. Ok. Posso caricarlo? Stai giù! Andiamo. Manca poco. Usciremo da lì. Dammi il tempo di aprirla. Non ho capito il nostro piano. Per forza. C'è solo un'uscita. Ok. Io penso alle guardie. Tu apri la porta. Senti. Avevi mai pensato di chiamarmi per dirmi che sei Spider-Man? Sai, dopo la morte dei miei genitori Rick ha dovuto prendere il posto di mio padre. Pensavo mi sarebbe mancato avere un fratello ma c'eri tu. Finna, io... Apri la porta! Non credo, reggerà! Vai! Ce la farò! Tu vai! Quei tizi con le luci sui caschi hanno un visore termico. Possono localizzarti anche quando sei invisibile. Mi chiedo quante risorse stiano investendo solamente per combatterci. E qua quindi entra in gioco un nuovo tipo di nemico. Tu ripulisci il piano. Io bypasso la sicurezza e ci apro una via d'uscita. Noi abbiamo usato pochissimo. Se vuoi spostare qualcosa. Veramente pochissimo. Il... l'essere invisibili. Però... uno ce lo siamo già tolti. Vediamo dove possiamo andare. Magari lì. Ma è molto buono, eh. Perfetto. Magico. Magico Miles. Questo non riusciamo? E così ci siamo riusciti. Guardate che bello fare anche un po' di roleplay e gestirsela in questo modo. Essere stealth. Tranquilli. Camminare sui muri. E non partire all'impazzata per forza. Vedete? Molto utile. Ok. Ora si stanno allertando ragazzi, eh. in realtà possiamo anche correre. Possiamo fare anche un'altra cosina. Bisogna essere... Oh. Esatto. Bravi, bravi. Bravi ragazzi. Siamo un'ombra. Siamo un'ombra. Allora, c'è quel tizio che non mi piace. Dovrebbe vederlo. Mi serve supporto. Non fatevi prendere di sorpresa. Attenzione qui, eh. Andiamo. Sanno che possiamo diventare invisibili. So che non ti fidi di me. No. Come posso farti che hai idea? Smetti di macchinare alle mie spalle e credimi quando ti dico che ho pensato a tutto. Nessuno si farà male a Plaza. Nessuno tranne la Rockson. E loro se lo meritano. Solo promettimi che ne parlerei con me. Ok? Ti ascolterò. Questo non era preventivato. Eh, questo non ci voleva. Facciamo questo? No, mi hanno tolto il Venom. Giusto. Strike. Boom. Bisogna stare attenti qui, eh. Discio. Peccato aver rovinato tutto per questa stronzata. Anche perché adesso la situazione è molto più brutta. Lo stealth ci avrebbe premiato. Ci avrebbe premiato molto. neanche quello gli fa niente. Incredibile. Va bene, va bene. Questo sì però. Eh, loro sono preparati. Ma non è questo. Ancora. Vieni qua. Te bossino. Ah, ho sbagliato. Grave errore. Grave errore. Dove sta quell'altro? Ecco lì. Uh, sì. E vabbè. Facciamo un altro. Vengo. Ci sei? Sembra che abbiano chiuso le porte. Troverò un altro modo. Hai qualche prova? Perché nessuno crederebbe alla parola di due giustizie rimascherati. Deve guardate anche qui come potete notare il ray tracing, i riflessi per terra. Questo ambiente dove qui c'è del cemento e qua c'è un pavimento molto lucido. Dona molta più profondità. Sembra una stronzata ragazzi, ma vi assicuro che paragonare un in un momento del genere che ne so questo questo frame questa foto che abbiamo qua davanti e la versione PS4 c'è tantissima differenza. Anche nella gestione delle luci. Quella deve essere l'uscita. Ehi! Ecco a te. Grazie. So dove siamo. È il laboratorio di Krieger. Ha un laboratorio? Solo di facciata ma sì. Rick mi mostrò una foto. Un laboratorio. Aspetta! Qui ci sono i dati del progetto Nuform. Esami di tossicità i test di sicurezza falliti e il nome di Krieger è dappertutto. Questo distruggerebbe la Roxon. No! Ti piace il mio nuovo colore? È immune alle tue punturine. Punturine? E dai, amico. No! Facciamola finita! No! 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 Ora c'è molto casino Però vedete possiamo usare questo Boom! Avete già capito come funziona no? Non possiamo usare il potere Venom ragazzi Ok approfittiamone ancora Qui Sta funzionando Ovviamente noi sappiamo come funziona questa fase di gameplay quindi è anche più facile Questo può essere utile L'abbiamo schivato cavolo Purtroppo Possiamo rifarlo Ora Ok Diamo una mano a Finn Droni Dovrebbe lanciarmi qualcosa no? La corazza è disattivata A te Pronto Possiamo usare il potere Pronto per una sconsenta bestione Esatto Bello giocare così Eh È troppo forte Ed è chiaro come anche da questa boss fight emerga il problema che si porta da Spider-Man 1 Non sappiamo come sarà in Spider-Man 2 Ma qua è chiaro è molto chiaro sulle boss fight ci sono dei problemini qualche problemina qualche problemino c'è molto spesso sono vengono sviluppate e ci vengono proposte allo stesso modo ok quindi usare degli oggetti un po' di ambiente per stordire il nemico andare ad attaccarlo e ripetere la stessa sequenza ci sono anche poche fasi ok il personaggio nemico ha sempre lo stesso moveset per quasi tutta la boss fight quindi c'è molto lavoro da fare e speriamo che in Spider-Man 2 si sia raggiunto questo step ulteriore di sviluppo che necessita veramente tanto i dati i dati di Krieger affonderanno la Rockson legalmente lo sai Krieger mi ha raccontato com'è morto tuo fratello molto divertente fitto e mi ha detto anche che è stata colpa tua Krieger ha modificato il reattore lo ha sovraccaricato per rispettare le scadenze se Finn realizzasse il suo piano oh mio dio Harlem tu lo hai guardato mentre moriva è tutto impotente non sappiamo se il reino è morto Finn cosa pensavi di hai demonito un fonte distrutto per mia fase mi è fatta la fin il reattore Finn avvicinati ancora e ti ammazzo ma siamo una famiglia la mia famiglia è morta Genki aiuto vado a prenderti un asciugamano e degli antibiotici ok Miles dove sei? però che passo? cos'è quello? devo dirti una cosa Finn ha attaccato il plaza sì quindi sei stato tu a darle la caccia per la città come Spider-Man potevi morire non lo puedo creer perché perché non mi hai mai detto nulla di tutto questo abbiamo parlato spesso di tutti i rischi da evitare ma questo non volevo ti preoccupassi l'altro Spider-Man non c'è e io faccio solo disastri su disastri e ora ho deluso anche te Miles non c'è niente che tu possa dire o fare che mi impedirà di volerti bene nada tu mi trasmetti forza Miles essere un eroe significa questo trovare coraggio per le persone che ami e non mollare mai Gloria penserà al fist e Theo ci aiuterà nel porta a porta ok perfetto iniziamo subito l'evacuazione ci vediamo fuori diventi sempre più simile a tuo padre e sii prudente lo sarò ehi scrivo agli abitanti di Harlem di fuggire prima di andare casa per casa ok bene e devo dirti una cosa grazie per esserci sempre ehi mi dai una mano prima di andare contaci vorrei incrociare le attività dell'underground con gli edifici dove può esserci il Nuform magari violando le torri Oscorp o... ci sono devo solo restringere un po' il campo niente male grazie cosa devo sgranchirmi le gambe e poi uscire ok ragazzi ci possiamo salutare qui e sono molto soddisfatto del tipo di ranna che sta avvenendo fuori ci sarebbe molto di cui parlare però secondo me è anche bello cercare di gustarci semplicemente il titolo e fare questo riassuntone narrativo senza entrare in filippiche troppo lunghe anche perché credo di averne fatte abbastanza e goderci l'inizio di Spider-Man 2 tra veramente poche ore ragazzi veramente pochissime ore e non vedo l'ora alla prossima ciao ciao